Due incidenti stradali si sono verificati la notte scorsa sulla corsia sud della tangenziale di Salerno, il primo intorno alle due all'altezza dell'autogrill tra due utilitarie i cui conducenti un 23N e una 22N sono risultati positivi all'alcol test. Le due auto, una Citroen C1 e una Fiat Punto, si sono scontrate frontalmente. Una delle due auto, condotta da un ragazzo ubriaco, dopo aver fatto rifornimento all'area di servizio, ha imboccato contro mano la tangenziale. I rilievi sono stati eseguiti dalla polizia stradale di Eboli diretta dall'ispettore superiore Antonio Quaranta. Ad avere la peggio la passeggera che era sulla Citroen, una ventenne di Salerno che ora è ricoverata in prognosi riservata alla ruggida Aragona. Il secondo incidente tra due camion si è verificato poco dopo all'altezza dello svingolo di Pastena, forse per l'incolonnamento che si era creato per il primo impatto. Le altre tre persone rimaste coinvolte nei due incidenti hanno riportato ferite giudicate guaribili tra i 15 e i 30 giorni.